Presidente della provincia di Taramo Catarra, in qualità in questo caso anche di commissario straordinario per i fondi per l'alluvione, ci sono ulteriori passi che sono stati messi in campo, in particolare la rendicontazione da parte dei comuni dei danni subiti. Sì, noi abbiamo acquisito come struttura commissariale tutte le relazioni dei danni subiti da parte sia dei comuni che dei privati e che erano state raccolte dalla Regione Abruzzo, che ce le ha girate naturalmente su nostra richiesta, e da qui adesso partiremo per verificare, controllare quello che su questi documenti c'è e poi iniziare a eventualmente finanziare soprattutto le somme urgenze, perché sappiamo che i comuni hanno delle grosse difficoltà e quindi vogliamo fare le cose in maniera più veloce possibile. Inizieremo proprio le nostre verifiche tramite la struttura guidata dal Comitato Tecnico Scientifico, tramite la struttura della provincia, dai comuni che hanno subito maggiori danni e quindi cominceremo da lì, dalle somme più importanti. I 25 milioni di euro complessivi che abbiamo, che sono poi 24 milioni, 20 mila euro, qualcosa del genere, per circa 20 milioni di euro sono un recupero dei residui dei FAS non spesi dalla precedente programmazione 2000-2006. Altri 4 milioni errotti di euro sono quelli che vengono direttamente dal Governo Centrale, dalla Protezione Civile Nazionale. Su questa noi dobbiamo fare naturalmente affidamento. Questo non esclude che come struttura commissariale e soprattutto come strutture di enti che hanno subito i danni, perché il danno totale ammonta quello che è registrato in Regione Abruzzo a 135 milioni di euro, di cui 120 per il pubblico e 15 per i privati. Per cui, insomma, dobbiamo arrivare ad avvicinarci a questa cifra. Non vogliamo farci facili illusioni. Sappiamo che il percorso è lungo e difficile, ma cercheremo altre fonti di finanziamento. Questo è poco ma sicuro.